Continuare a fare richiami, cioè questo vaccino è chiaro, ecco, ma ciò che inseriamo dentro il nostro corpo riconosce poi, riconosce il nemico da combattere oppure si abitua e quindi non lo riconosce più, quindi diventa inutile, lo riconosce? No, 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 guardi, ma certo che lo riconosce, cioè lei dice facendo più vaccini uno induce una tolleranza, no, 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 guardi, il sistema immunitario una volta stimolato se lo si ristimola in genere aumenta sempre la risposta immunitaria, ecco, casomai mi chiede se è una cosa salutare per un organismo stimolare il sistema immunitario ogni 3-4 mesi e guardi, sicuramente non lo è, va bene? Quindi bisognerebbe arrivare a un vaccino unico diciamo per molto tempo? Guardi, bisognerebbe arrivare a quelli, un vaccino chiamiamolo così, di seconda o terza generazione, cioè un vaccino che induce un'immunità per meno di un paio d'anni Ci arriveremo, ma quando? Eh, guardi, io penso comunque nei prossimi anni o due ci arriveremo, sono sicuro Grazie, grazie professor Crisanti per essere...